Gli ultimi aggiornamenti sulle nozze dei due popolari volti televisivi all'indomani della finale del GF VIP, dopo averle fatto la proposta in diretta televisiva e aver vinto il grande fratello VIP, tutti attendono da Daniele Bossari la data del matrimonio con Filippa Lagerbach, compagna di una vita età cui ha avuto una splendida figlia. La vittoria del reality show di Canale 5 Etteri sorpreso un po' tutti, visto che in pochi avrebbero creduto nel trionfo finale del conduttore di mistero, è stato un successo contro tutto e tutti, ripensando alle nominazioni affrontate con Giulia De Lellis prima e Luca Onettini poi. Una cavalcata vincente straordinaria, che ha emozionato ciascun telespettatore da casa, e che alla fine ha messo d'accordo anche gli aspetti sociali, concordi nel ritenere giusto il podio della finalissima di UBD. Ancora incerta la data, incalzata a più riprese nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo, che fa da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbach ha chiesto ancora tempo per conoscere la data esatta del matrimonio con il suo storico fidanzato Daniele Bossari. Dichiarazioni giunte 24 ore esatte prima del suo trionfo inaspettato al grande fratello VIP, e che verranno per forza di cose aggiornate nei prossimi giorni, quando i due saranno protagonisti di numerose interviste sui settimanali di gossip e in televisione. Probabile la presenza dei due, insieme, nella trasmissione di Fabio Fazio, sebbene sia più credibile vederli prima in un programma targato Mediaset. Nonostante l'incertezza sulla data, con ogni probabilità sarà nella primavera o estate del prossimo anno, difficilmente la coppia vorrà posticipare ancora il traguardo agognato da più di dieci anni, durante i quali non ha mai voluto compiere il sospirato passo ufficiale. Se prima l'idea di porre la firma su un contratto non entusiasmava nessuno dei due, ora si tratta soltanto di una questione di mesi, prima di festeggiare il giorno più bello della loro vita, inoltre, in cantiere c'è anche il progetto di regalare un fratello o una sorella alla loro primogenita, per completare così il quadro perfetto della rinascita. Dove non si sposano, maggiori certezze invece su quale sarà il luogo delle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerbach. Sicuramente il matrimonio non verrà celebrato in Svezia, paese natale della donna, né sull'isola di Pasqua, folle idea condivisa dal popolare conduttore televisivo all'interno della casa del grande fratello Vip. Due esclusioni eccellenti, visto che sono arrivate direttamente dalla voce di Filippa, nel canale. Grazie a tutti.